La scuola di danza Salus et Grazia di Anna Bianchi Domini è la scuola di danza accademica per antonomasia. Non a caso ha assunto il nome Salus et Grazia poiché nell'apprendimento di questa meravigliosa arte è inevitabile l'acquisizione della salute e della grazia. La danza ha sempre a che fare con il corpo umano in movimento e talvolta impone necessari sforzi non comuni relativi ad un'ottima funzionalità respiratoria e cardiocircolatoria e degli apparati osteo-legamentosi e muscolari, imponendo una disciplina interessante che facilita la correzione di malformazioni scheletiche giovanili, oggi assai frequenti nell'età scolare, nonché l'aggraziamento del portamento che rende la donna sempre più femminile con l'ausilio di un'ottima educazione musicale. Molti elementi giovani sono predisposti a difetti fisici quali scoliosi, ginocchio valgo, piede piatto eccetera, per cui una buona scuola di danza classica è terapeutica poiché contribuisce non soltanto ad eliminare questi difetti, anche se latenti, ma anche quelli psichici, cioè inibizioni, timidezza, paure, in quanto l'allieva acquista un'autodisciplina che la rende immune e padrona di sé. Un'adeguata scuola di danza classica richiede naturalmente un insegnante d'alto livello tecnico e artistico che oltre ad avere capacità didattiche e psicologiche sulla materia deve avere anche una preparazione igienico-sanitaria relativa ed esercitare sempre un rigoroso controllo per uno sviluppo armonico dell'allieva e sulla sua risposta. La scuola di danza accademica Salus ette Grazia, diretta dalla professoressa Anna Bianchi Domini, è la sola nelle marche abilitata all'insegnamento di primo grado riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Anna Bianchi Domini, medaglia d'oro ANID, abilitata all'insegnamento di primo grado inferiore, medio e superiore, usa il metodo guerra-caorzi, sistema gniasse, barre a terra, orchestica-danza-ellenico-rinascimentale, nonché corsi liberi e professionali. Iscriviti anche tu alla scuola di danza accademica Salus ette Grazia e troverai i vantaggi per un tuo personale migliore domani. Le iscrizioni sono aperte dal 15 al 30 settembre presso la segreteria della scuola in Viale della Vittoria numero 7 Ancona, tutti i giorni dalle ore 17 alle 19. Un armadio completamente in legno. Quando si acquista un armadio bisogna chiedere al mobiliere se è proprio in legno o non sia un truciolare oppure un poliuretano espanso. Gli armadi dell'Olimp Arredamenti sono costruiti esclusivamente in legno laccati, per farli durare in eterno. Il mobile in legno non ha periodi. visitate i grandi saloni di esposizione della Olimp Arredamenti a Sassoferrato Ancona, strada Arceviese al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato Ancona, strada I letti in ottone della Olimp Arredamenti sono di tubo di ottone lucidato con colonnine in barra tornita o fuse, bronzato, lucido o satinato. I pannelli sono imbottiti in pelle e decorati a mano. I letti in ottone satinato si accoppiano ottimamente con i cassettoni in noce anticato e la specchiera pure in ottone bronzato con base in noce anticato. Visitate i saloni della Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada Arceviese al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato vi invita a visitare i grandi saloni di esposizione mobili di tutti gli stili per arredare nell'unico modo la vostra casa. Le camere da letto in stile moderno, adattabile in qualsiasi ambiente, con la sua originale componibilità, propone nuove soluzioni razionali dello spazio. Il suo disegno pulito, la delicatezza dei toni, la linea pura, sono perfettamente aderenti ad un nuovo modo di arredo. Piacevolmente durevoli oggi, gradite domani, queste belle ambientazioni si pongono al di fuori di qualsiasi moda. Visitate i saloni della Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada Arceviese al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato vi invita a visitare i grandi saloni di esposizione mobili di tutti gli stili per arredare nell'unico modo la vostra casa. La cucina è il luogo più affascinante della casa. Bisogna però che sia arredata con mobili adeguati, dal tono confortevole, da un'armonia di linee e ambrate venature che emanano un soffio di rustico per conservare intatto il fascino dei bei tempi. Lo stile è interpretato dal legno rovere al naturale che partecipa all'ambiente casa in un sentimento di calda intimità. Le cucine Olimp Arredamenti sono mobili di una collezione che tramanda intatto il fascino del rustico nonostante l'eleganza della linea e le curate finiture. Visitate i saloni dell'Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada Arceviese al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato vi invita a visitare i grandi saloni di esposizione mobili di tutti gli stili per arredare nell'unico modo la vostra casa. Morbide, resistenti, riposanti sono le poltrone Olimp Arredamenti. La loro versatilità esprimono il concetto di componibilità. Infatti, unendo più elementi base con o senza braccioli esterni di collegamento, è possibile comporre la soluzione più idonea alle necessità personali. Con un semplice procedimento è possibile creare combinazioni diverse partendo dalla bivoltrona. La poltrona Olimp Arredamenti è autorevole, voluttuosa, non c'è chi resista alle sue lusinghe, consente confortanti positure e alle più nobili creature offre allungati, soffici, immemori, riposi. Visitate i saloni della Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada arceviese al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato vi invita a visitare i grandi saloni di esposizione mobili di tutti gli stili per arredare nell'unico modo la vostra casa. Salotti pregiati, stile antico e moderno. Il salotto completa l'arredamento di una casa quando si presenta di particolare bellezza e robusta costruzione. I salotti dell'Olimp Arredamenti sono lavorati da nobili artigiani su disegni originali da cui si ricavano i sapienti incastri e tutti quei particolari che l'occhio non vede. Dalla scelta dei materiali pregiati all'esecuzione dell'ultimo fregio, tutto concorre alla creazione di un mobile davvero unico per valore e bellezza. Una novità, i divani e poltrone sono svestibili dei loro rivestimenti in stoffa e lavabili in lavatrice. Visitate i saloni dell'Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada arcigliese, al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato vi invita a visitare i grandi saloni di esposizione mobili di tutti gli stili per arredare nell'unico modo la vostra casa. Le camere costruite in noce nazionale hanno particolari caratteristiche. Il letto è elegante e solido, corredato da due comodini a due cassetti di diverse misure. Il comò ha otto cassetti, di cui due più grandi. Interessanti sono le cornici arrotondate, reggipiani e le maniglie in legno a sfera robuste. Di particolare interesse è l'armadio a sette, otto ante, intere, che permettono una comoda collocazione dei capi di vestiario e biancheria. A scelta può essere fornito con specchi bronzati. Altra camera di notevole versione ha soluzioni particolari, è costruita in noce e tanganica fiammato. L'armadio stagionale a sei ante, con cassettiera esterna, ha quattro cassetti e quattro ante centrali con specchi normali o bronzati. La specchiera del comò è doppia in cristallo fumè. Visitate i saloni della Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada arciviese al chilometro 49. Olimp Arredamenti di Sassoferrato vi invita a visitare i grandi saloni di esposizione mobili di tutti gli stili per arredare nell'unico modo la vostra casa. Il noce nazionale è il legno preferito per tutti i mobili, ma soprattutto per i soggiorni. Essi vengono prodotti in due versioni, alti e medio-bassi. I masselli sono in ramino e i cristalli sono temperati bronzo. La composizione dei mobili pannelli in perfetta armonia con l'estetica offre la possibilità di seguire lo sviluppo di pareti con angoli a 90 gradi. Una semplice operazione di assemblaggio permette di realizzare armadiature di ogni dimensione e interpareti in rovere naturale a poro aperto o chiuso o laccato bianco. Visitate i saloni della Olimp Arredamenti a Sassoferrato, strada arciviese al chilometro 49.